Dunque, partirei qua, abbiamo due special servicer piuttosto attivi nel settore degli MPL, quindi io partirei da loro per capire come stanno operando e quali sono le novità del settore. Partirei da Massimiliano Bertolino che è AD di Frontis NPL, Frontis è gestore di diversi portafogli e volevo capire da te Massimiliano, visto che voi gestite sia portafogli sia single name NPL, quali sono le principali differenze tra la gestione degli uni e degli altri e anche nella tua esperienza, poiché stiamo parlando qui e l'interesse della platea è principalmente indirizzata verso gli NPL con sottostante immobiliare, qual è la tua esperienza sui vantaggi dell'utilizzo di Rioco nelle operazioni sia relative a portafogli sia relativi a single name? Allora, per iniziare noi gestiamo portafogli di NPL, quindi sono portafogli di crediti con garanzie immobiliari che però noi li creiamo sulla base di single name, cioè non compriamo dei portafogli variegati dalle banche ma selezioniamo i crediti che vogliamo comprare perché riteniamo che sia essenziale e capire qual è la garanzia immobiliare sottostante. Capire la garanzia immobiliare vuol dire creare da ogni operazione un'operazione a sé stante ed è il motivo per il quale il single name per noi è la cosa fondamentale. Questo lo dico perché gestire un portafoglio di sofferenze è diverso da gestire una somma di single name. Gestire un portafoglio spesso si fa su basi statistiche, si fa su flussi di incasso stimati. La nostra gestione, come dicevo, è credito per credito, vuol dire gestire sostanzialmente l'asset sottostante. Il motivo per il quale è fondamentale per noi avere degli strumenti immobiliari, le famose reocco, che aiutino a rendere più efficiente e massimizzare il recupero del credito. Ecco, prima io ho sentito tanto parlare di interventi legislativi sull'immobiliare che ovviamente sono senz'altro dovuti. Credo che nel mondo reocco sia necessario un intervento normativo, era da tanti atteso, ci sono stati degli interventi, sono stati anche lì tentati degli interventi, poi ritirati, poi fatti, poi non fatti. Devo dire che anche lì noi ci attendiamo degli interventi perché il mondo delle reocco, che sostanzialmente sono società immobiliare che partecipano alle aste, subisce tutta una serie di incertezze che non agevolano sicuramente il nostro lavoro. Questo ha maggior ragione per chi fa, come me, proprio attività di gestione degli MPL, soprattutto con garanzia immobiliare. Detto questo, devo dire che la reocco comunque è uno strumento molto efficace perché permette di trasformare un credito in un immobile e quindi riattivare tutta l'attività e la filiera immobiliare su quello specifico immobile che altrimenti rimarrebbe bloccato in una procedura esecutiva o fallimentare per anni. Noi spesso, proprio utilizzando delle reocco, andiamo da dei curatori e gli diciamo vendi l'immobile prima possibile in un'asta, ma perché noi presentiamo un'offerta a supporto. Questo vuol dire che invece di aspettare anni che qualcuno si presenti all'asta, immediatamente l'immobile esce fuori dall'asta viene rilavorato e rimesso in circolo. Quindi questo vuol dire che rialimenta tutto il meccanismo. Credo che a grandi linee abbia risposto a quello che mi chiedevi. Grazie, grazie Massimiliano. Allora invece passerei la parola a Riccardo Serrini. Riccardo è direttore generale di Prelios e AD di Prelios Credit Servicing, che è sempre un servicer molto importante, che opera nel settore degli MPL. Peraltro Riccardo, voi con Prelios Credit Servicing siete coinvolti praticamente in tutte le operazioni con garanzia statale, con la cosiddetta GAX, perché avete fatto Popolare di Bari, siete stati coinvolti per Carigie, siete su MPS, ho capito, sembra che sarete anche coinvolti in un'altra importante operazione che sta partendo. Quindi volevo capire un po' quali sono invece le particolarità del ruolo del servicer in queste operazioni qui, qual è la rilevanza del sottostante immobiliare in queste operazioni e che ruolo eventualmente potrebbero avere le Rioco in operazioni con GAX, che quindi sono operazioni non con un singolo investitore che diciamo governa e in qualche modo dirige l'operazione, ma in cui c'è una pluralità di investitori, insomma il mercato. Sì, certo, grazie. Allora, partiamo dal presupposto che le operazioni pubbliche con l'utilizzo delle GAX danno dei vantaggi enormi alle banche, perché la garanzia pubblica che insiste sulla tranche senior, perciò questa è una cartolizzazione pubblica dove poi ovviamente c'è un rating e i titoli possono anche eventualmente girare, sono tre tranche, la senior, la mezzanina e la junior, e la tranche senior deve avere una, dalle agenzie di rating almeno due, un rating almeno tripla B, perciò cosiddetto investment grade, e se la banca originator che effettua questa operazione ha diritto ad accedere alle garanzie pubbliche, perciò ha una garanzia che viene rilasciata dallo Stato e questo cosa comporta? Comporta ovviamente un costo molto basso. Oggi sul mercato sono andate quattro GAX, tre le abbiamo fatte noi, e mediamente il costo dei bond della tranche senior sono a un ribor più 50 basis points, perciò capite che è un vantaggio molto importante. Per arrivare a delle leve alte, di conseguenza per arrivare a una tranche investment grade molto alta e che comporta ovviamente la possibilità di acquistare i crediti ad un prezzo molto alto, deve avere una componente immobiliare importante, oltre ad avere un servicer che ha delle curve di recupero, un track record molto buono. Cosa significa? Significa che delle quattro GAX che sono andate sul mercato, circa il 70% del collaterale è composto da crediti secured, perciò con degli immobili a fronte. Sono portafogli principalmente granulari, perciò è assolutamente vero, come diceva Massimiliano, che l'approccio nella gestione dei portafogli è diverso se si hanno delle somme di single names rispetto ai portafogli granulari, ma data la dimensione ovviamente il numero è elevatissimo. Non si può pensare di fare dei risultati brillanti se non tramite un'attività di ariocon, perciò anche nelle operazioni pubbliche oggi non sono ancora partite attività, diciamo così, sotto il veicolo di cartellizzazione tramite ariocon, anche perché stiamo aspettando dei chiarimenti legislativi per cui, de facto, insomma, le ariocon sotto i veicoli di cartellizzazione hanno lo stesso approccio fiscale come i veicoli stessi, insomma sostanzialmente funzionano dal lato fiscale come i fondi, però questo è fondamentale, è fondamentale perché se non si va sull'immobile e si va soltanto o principalmente per una gestione di carattere giudiziale si deprime sicuramente il valore dell'immobile, perciò il valore del credito e inoltre i tempi sono lunghi. Ecco, ma gli investitori delle junior tranche di queste operazioni spingono perché si vada sulla costituzione di un arioco o sono silenti? Ma allora, lo stanno capendo più che altro perché sono investitori un po' diversi rispetto agli investitori negli NPL perché un conto è, per esempio, un investitore come Algebris che quando compra un portafoglio, compra degli NPL vuole gestire totalmente la macchina oltre a fare investimenti o comunque vuole avere una macchina già costituita. Per operazioni pubbliche è un po' diverso perché sostanzialmente sul mercato va la parte junior e mezzanine, perciò è un qualcosa di già cucinato, perciò c'è già un servicer, c'è già un rating e di conseguenza si allarga moltissimo la compagine di potenziali investitori. Perciò sono tutti investitori che non sono fortemente presenti e radicati in Italia perché comunque è un'operazione un po' più finanziaria dove perciò è più facile che ci sia l'edge fund che è interessato, che voglio avere esposizione sull'Italia, voglio esposizione sugli NPL, questa è un'operazione già fatta, tutta diciamo così preconfezionata, mi prendo il rischio e poi può essere anche un edge, fanno un'assicurazione, un fondo pensione eventualmente e così via. Perciò non hanno ancora la sensibilità e capacità di partire subito con una riocupa, ma comunque lo stanno capendo tutti perché è talmente evidente che poi anche qua rimangono sempre i problemi, anche se sono andati dei miglioramenti con le riforme, la legge 132 e così via, ma comunque i tempi delle chiusure giudiziali sono sempre lunghissimi. Adesso speriamo che con le nuove guidelines sulle valutazioni immobiliari che sono state approvate ieri in sede ABI, perciò tutte le parti, Asso Immobiliare che si è fatta promotrice, poi ovviamente ABI e tutte le parti dall'associazione di categoria al CSM e così via hanno approvato delle linee guida che sono molto importanti perché poi il problema vero è che quando gli immobili vanno in astra c'è sempre la CTU, la CTU viene fatta sui valori di mercato libero, non ci sono mai gli sconti che vengono applicati normalmente in una situazione di stress, il risultato è che comunque ci sono 5, 6, 7, 10 aste prima di arrivare alla vendita, in questo caso invece finalmente se poi le linee guida vengono applicate, ma come penso che verrà fatto, finalmente i CTU applicheranno al valore di mercato anche almeno, almeno, diciamo così, la serie storica in quel tribunale sulla tipologia di immobile lo sconto che è avvenuto in passato tra i valori del CTU e i valori effettivamente di vendita dell'immobile in asta. No, grazie, anzi molto interessante questo spunto perché tra l'altro abbiamo qui con noi Gian Piero Bambagioni che è responsabile scientifico proprio del codice delle valutazioni immobiliari, quindi abbiamo qui la persona che si è occupata sia dell'estensione del codice delle valutazioni sia poi ha partecipato attivamente alla redazione di queste linee guida di cui Riccardo ci stava parlando e che effettivamente dovrebbero dare un boost alle aste e rendere molto più snello il processo se auspicabilmente le valutazioni del CTU si avvicinano al vero valore in asta dell'immobile. Dottor Bambagioni ci vuole spiegare un po' qual è la novità appunto del codice e delle linee guida e quali sono stati insomma i principali ostacoli da affrontare insomma per arrivare all'obiettivo. Intanto la ringrazio e ringrazio per l'invito. Prima di rispondere vorrei fare un inciso e partendo da un assunto che il valore della garanzia e il tempo di recupero credo che siano la chiave di volta di qualsiasi operazione di securitization o comunque di cartolarizzazione o comunque di recupero dell'NPL. L'operazione ha carattere esclusivamente finanziario se parliamo di cessione del pacchetto ovviamente ma questo pacchetto nel momento in cui è transitato dal portafoglio della banca, dalla banca ad un soggetto che poi professionalmente si occupa di recupero appunto deve incontrare e confrontarsi con il mercato e con il valore del collateral e con i tempi di recupero. E qui ovviamente deve essere tenuto conto di un quadro di riferimento che è un contesto normativo e di vigilanza particolarmente complesso come ben sappiamo ma devono essere tenute in considerazione anche norme specifiche dal 568 del codice di procedura civile che identifica il valore di mercato come la base sulla quale deve essere effettuata la stima da parte del perito che poi evidentemente è la base per poter avviare la procedura esecutiva con tutte le tempistiche che sono state anche richiamate un momento fa che possono essere più o meno dilatate anche in tenuto conto dalla capacità di identificare questo valore da parte del soggetto coinvolto. Quello che intendo comunque sottolineare e evidenziare è che la value chain che è coinvolta e i soggetti che sono coinvolti in questa attività sono numerosi e diciamo è particolarmente complessa quella che è l'attività effettiva di recupero partendo dalla considerazione che il ciclo diciamo di erogazione del credito raccolta impieghi e ovviamente restituzione del debito è ordinario nell'85% dei casi come sappiamo almeno le statistiche questo ci dicono invece è straordinario sono NPL sostanzialmente in Italia il 15,3% circa delle operazioni quando in Europa abbiamo poco più del 5% e quindi tuttavia non basta identificare il valore nella fase di avvio della procedura legata alla securitization o comunque alla cessione in funzione della cessione del portafoglio molte delle criticità nascono nel momento in cui si va a fare l'erogazione cioè quando si va a determinare come sappiamo quell'on to value che poi è alla base per l'assunzione delle garanzie da parte della banca piuttosto che altre criticità, altro momento, altra fase in cui queste criticità devono essere identificate sono quelle in cui ecco la banca è chiamata a fare la vigilanza su questi valori con una tempistica e con una periodicità che è stabilita sia dal regolamento 575 del 2013 che dalle linee guida a livello BCE in sostanza la questione è assai complessa quindi se noi abbiamo identificato in maniera inappropriata il valore di mercato nella fase di erogazione del credito è probabile che quando andiamo a fare l'operazione di securitization anche il valore e lo spread quindi tra il ricavo che si ottiene per quanto attiene il pacchetto di NPL ceduti e le attese invece della banca abbia un gap elevato questo gap può essere ridotto se le politiche valutative dovessero essere come peraltro dicono le linee guida BCE gestite fin dalla fase di erogazione in maniera appropriata nel merito della domanda per rispondere in maniera puntuale Sì, nei ultimi anni, scusa, nelle ultime settimane, nei ultimi anni anche perché in effetti dal punto di vista del quadro di riferimento normativo chi conosce dal 2013 poi la direttiva 17 del 2014 poi il decreto legislativo 72 che ha modificato il tub l'articolo 122 deces eccetera negli ultimi anni è cambiato veramente il mondo e anche i soggetti, le parti coinvolte sono ovviamente identificate direi clasterizzate comunque hanno delle responsabilità e degli obblighi e comunque dei compiti ben precisi ma nelle ultime settimane i fattori diciamo importanti proprio per rispondere a questa necessità di identificare il valore quali sono stati la 2 di dicembre è stato presentato il codice delle valutazioni immobiliari che è la quinta edizione ha un capitolo specifico sulla gestione degli NPL sulla valutazione degli NPL il codice è condiviso da quasi tutta la filiera per non far torto nessuno quindi dall'Associazione Bancaria Italiana all'Agenzia del Demanio l'Agenzia delle Entrate le professioni tecniche con fedelizia il Ministero del MEF piuttosto che il Ministero dello Sviluppo Economico e quant'altro l'elenco lo trovate non voglio far torto nessuno se non le cito tutti ma sono 28 componenti e quindi lì si sono diciamo in maniera organica e sistematica identificate norme e diciamo basi per determinare non solo il valore degli NPL ma ovviamente il valore degli asset in generale e degli immobili in generale il 23 di gennaio l'altro ieri invece in sede ABI promosse dall'ABI sono state presentate quelle che sono le linee guida per la valutazione che sono una sorta di applicativi ma sono obbligatorie o sono una best practice a cui i CTU dovrebbero allinearsi ma senza esservi obbligati? Ecco e questo è l'aspetto è chiaro che siamo in un ambito in cui non c'è nessuna cogenza per quanto riguarda l'applicazione e quindi dipenderà dal giudice o dai giudici per esempio se a recepire questi modelli o meglio questi principi e quindi queste metodologie e poi farli applicare per esempio ai CTU che quindi evidentemente già sono soggetti al codice di procedura civile abbiamo ricordato prima il 568 ma parallelamente dovranno anche tener conto di quelle che sono il quesito che il giudice pone e però come è stato accennato ci sono azioni per coinvolgere evidentemente ma credo che sia nell'interesse anche diciamo dei soggetti coinvolti nella gestione diciamo a livello dei tribunali quindi di avere degli strumenti che possano agevolare e quindi di favorire l'identificazione del valore perché perché poi come è stato ricordato in più sedi ci sono anche dei risvolti è vero che sono operazioni finanziarie è vero che per la banca sono operazioni di recupero di un credito che è erogato a seguito di raccolta ma è anche vero che dall'altra parte ci sono problemi di sdebitamento o di sdebitazione piuttosto che di sovrindebitamento e comunque ci sono soggetti famiglie piuttosto che in price che evidentemente pagano se mi è consentito un prezzo elevatissimo in conseguenza di scenari che magari si sono delineati al di là di quella che è la volontà certo c'è un'esigenza di protezione del debitore dunque io volevo passare adesso ad un altro argomento presento Graham Perry che è Head of Quantitative Risk Management di JLL Italia allora innanzitutto ci devi spiegare di che cosa stiamo parlando so che avete elaborato diciamo dei modelli che dovrebbero essere di aiuto alle banche perché le banche a partire da gennaio 2018 devono applicare un nuovo standard contabile che è l'IFRS 9 per cui devono valutare cioè devono effettuare l'imperment con approccio forward looking e quindi ci spieghi diciamo qual è insomma l'impatto per le banche se la vostra sensazione che le banche siano pronte a questo all'entrata in vigore di questo IFRS 9 che capisco che dovrebbe applicarsi a far data da gennaio quindi diciamo l'applicazione è recentissima e diciamo in che modo l'utilizzo appunto di big data dati analitici e modelli può aiutare le banche a gestire queste tematiche nuove certo innanzitutto grazie per l'invito magari qualche parola su di me per inquadrare un po' il mio discorso io sono di origine canadese ma opero nel settore immobiliare finanziario con l'Italia ormai da quasi 18 anni prima con incarichi in carattione arial bank hyper real estate e poi una volta metamorfizzato in fanbrief bank scissa il suo portafoglio non performe in Italia mi occupava della gestione di circa un portafoglio di un miliardo e mezzo ci ho detto circa tre anni fa insieme all'amministratore delegato forse devi avvicinare leggermente il microfono stavo dicendo che circa tre anni fa insieme all'amministratore delegato attuale Pier Marana di GLL abbiamo identificato un'opportunità di estendere i servizi di GLL più nel lato finanziario sempre con la visione di trasformare o di orientare GLL in una società informatica che opera nel settore immobiliare attualmente mi occupo delle operazioni immobiliari che hanno un elemento finanziario che vanno dall'equity placement debt placement la vendita di quote di fondi chiusi piattaforma identificare local players o local partners per investitori internazionali e ovviamente vista la mia esperienza precedenza dell'INPL in quest'ultimo periodo ovviamente come tanti siamo stati coinvolti a livello buy side sulle operazioni di Beyond the Cloud Rainbow Rossini Rep quasi tutte queste operazioni insieme ad aver aiutato qualche banca nell'identificare come promuovere alcuni loro crediti sofferenti o addirittura non performing sempre in questi due in due casi ci sembrava che le operazioni scelte i portafogli erano veramente creati ad hoc con una mancanza magari di una conoscenza non soltanto immobiliare ma del settore geografico economico dove ubicavano questi questi crediti o addirittura immobili garantiti da questo qua nasce l'opportunità di lanciare questo nuovo prodotto all'interno di GEL che si chiama Quantitative Risk Management team a base a Madrid composto di circa 20 persone di origine sia spagnolo italiano che portugese i responsabili i managers di questo team sono ex Sareb lavoravano nella bad bank spagnolo e sono coloro che anche prima di Sareb per coloro che lavoravano con un'esperienza bancaria sono loro che montavano i modelli di Loss Given Default o Probability of Default con la loro esperienza e con delle database esterne abbiamo montato dei modelli in house di GLL uno che si chiama GEA l'altro GLL1 che ci permette non soltanto in un tempo breve di dare un'opinione di valore a portafogli granulare ma di dare un valore anche del credito stesso prendendo di nuovo in considerazione il mutuatario ovviamente alla zona a livello di escursione queste informazioni sono ormai accessibili anche a livello italiano e stiamo montando questa operazione in Italia la scelta di aver Madrid come sede deriva da due motivi uno giustamente per l'esperienza e i skills di questo team Sareb ma anche perché abbiamo visto che la Spagna è sempre se no un anno e mezzo avanti l'Italia già stiamo vedendo il consolidamento del mercato bancario che abbiamo visto in Spagna idem la privatizzazione dei servicers che ormai in Spagna è strada fatta infatti avrei potuto parlare a lungo delle differenze tra la Spagna e l'Italia riguardo l'NPL ma preferisco concentrarmi su sulle elementi che ci rassomigliano e giustamente come dicevi il tema IFRS è veramente il momento secondo noi di introdurre questo prodotto perché come citata la Banca d'Italia tante delle piccole banche visto la mancanza dei dati avranno difficoltà a introdurre l'IFRS l'altro tema che si si stima che l'introduzione per l'IFRS avrà un costo di circa 40 miliardi sulle banche italiane inciderà tra 30 e 40 punti base sul ratio di risk-weighted assets su tier 1 capital che è sostanziale questo qua di nuovo perché mancano benchmarks comparables dati che il nostro strumento potrà potrà sicuramente servire non entro in merito vorrei soltanto citare che questo qua non è fatta scienza esiste già quest'anno il team di quantitative risk management ha assistito innanzitutto Santander nel collocare il portofoglio di Banco Popolare in Spagna dopo di che abbiamo girato posizioni abbiamo assistito Blackstone ad acquistare questo portofoglio che è composto di circa 120.000 posizioni un valore book value di circa 30 miliardi di euro e il tutto è stato fatto in periodo molto breve tra i 5 e i 6 settimane Blackstone è rimasto molto contento sul lavoro fatto abbiamo già preso altri incarichi che assomigliano questo servizio la vediamo con veramente un prodotto innovativo e nuovo per il mercato italiano grazie grazie Graham allora last but not least passerei la parola al professor Santoni che è un diciamo esponente illustre di questo panel perché in sé è professore ordinario di diritto bancario a Tor Vergata e liquidatore di Banca Etruria quindi lei vede il mercato delle banche degli NPL e quindi degli immobili sottostanti in due vesti sia da un punto di vista accademico che poi diciamo per la pratica che svolge in Banca Etruria ecco volevo sapere appunto visto questo doppio ruolo che lei riveste qual è la sua view sul mercato italiano degli NPL è un mercato che ha raggiunto un livello sufficiente di maturità o ancora ha necessità di ulteriore evoluzione e sviluppo e non lo so ci sono dei correttivi dei miglioramenti che si possono apportare che appunto a lei viene in mente di suggerire per effettivamente accelerare un'evoluzione del mercato se è necessaria grazie grazie dell'invito e grazie della parola io farei un passo indietro per sottolineare come il problema in Italia dopo la crisi non sia consistito solo nell'incremento esponenziale delle posizioni deteriorate delle banche ma anche nella difficoltà che è emersa nell'efficiente smaltimento di queste posizioni deteriorate questo è derivato da una circostanza che è possibile sintetizzare in una frase non c'era un ampio un mercato ampio sano condiviso efficiente degli attivi ammalorati delle banche in precedenza prima della crisi o nelle prime fasi della crisi il sistema bancario sul punto era autoreferenziale nel senso cioè che tutte le principali competenze in materia di gestione dei crediti deteriorati della loro valutazione dello smaltimento era all'interno delle banche il modello è improvvisamente cambiato sono entrati nuovi protagonisti in questo mercato le banche sono state costrette a trovare il sistema per smaltire i loro NPL ma non erano in grado di farle non erano sufficientemente attrezzate sufficientemente organizzate è stato a riguardo giustamente osservato che mancavano elementi adeguati anzi indispensabili per procedere ad una corretta valutazione di questi attivi ammalorati questo perché le banche avevano base dati inadeguate avevano presidiato in modo insufficiente alla efficiente raccolta di informazioni su contratti procedure e garanzie vi era un eccessivo divario tra prezzi di offerta e prezzi di domanda l'aumento improvviso della quantità di questi NPL aveva generato il sovraccarico delle strutture interne delle banche preposte alla loro gestione dunque si era venuto a creare un vero e proprio loop moltiplicando la necessità di procedere alla cessione di questi asset mancavano regole certe e condivise per procedere alla valorizzazione delle garanzie a salvaguardia dei crediti ammalorati in più i costi delle cessioni hanno ulteriormente ridotto il valore già depresso di questi crediti da cedere in una parola mancavano appunto mancavano i presupposti di un efficiente mercato uno dei problemi concreti da risolvere è stato è consistito nella individuazione di regole tecniche certe conosciute in anticipo e verificabili non modificabili se non all'esito dell'adozione di procedure predefinite l'articolo 122 del testo unico bancario al riguardo impone dei parametri soggettivi ed oggettivi i parametri soggettivi riguardano i valutatori i quali devono presentare connotati di imparzialità indipendenza e obiettività ma anche parametri soggettivi riguardanti cioè il procedimento di valutazione dei beni immobili che costituiscono appunto la garanzia ora la norma prescrive in sostanza una giuridicizzazione delle norme tecniche e poiché gli standard tecnici che vengono assunti a parametro sono essenziali per la verifica della correttezza degli adempimenti delle banche questo ci spinge a dire si può concludere su questo punto che la strada perseguita è stata quella di tentare una di pervenire a una maggiore trasparenza del mercato cioè che cos'è un mercato trasparente è un mercato in cui vi sia riconoscibilità delle regole riguardanti sia il procedimento di valutazione sia partendo muovendo dalla considerazione che l'opacità dei criteri adottati per le stime può costituire sicuramente una delle principali cause delle performance deludenti di alcuni fondi immobiliari una valutazione cioè può essere considerata trasparente quando consente la verifica ex post dei criteri e delle fasi in cui si è articolato il procedimento di valutazione che significa anche che la valutazione deve essere improntata su informazioni tipizzate ripercorribili conformi appunto a standard ben individuati ex ante qui poi vi è un ulteriore aspetto che tra l'altro è emerso anche in alcuni degli interventi che mi hanno preceduto che cioè si rende essenziale poter disporre di base dati efficienti e qui l'invito o forse diciamo uno degli aspetti su cui il nostro paese patisce una un handicap è il ruolo maggiore che dovrebbero svolgere alcuni soggetti pubblici che presidiano questo mercato mi riferisco innanzitutto al ministero della giustizia il quale peraltro ha annunciato in vario modo la istituzione di una base dati di prossima introduzione relativa alle procedure giudiziali immobiliari base dati che potrebbe dare un contributo formidabile al miglioramento della trasparenza del mercato immobiliare allo stesso tempo la stessa agenzia delle entrate potrebbe fornire un contributo notevole in questa direzione elaborando un format unico per le perizie fiscali che invece allo Stato sono ancora molto disomogenee e che andrebbero sicuramente migliorati concludo il mio intervento dicendo che comunque la trasparenza da sola non basta oggi anche nella discussione che ha preceduto la nostra è stato sottolineato poi come senza un deciso intervento fiscale a favore degli immobili è praticamente impossibile il rilancio del settore immobiliare e con esso dello stesso mercato dei crediti a mano orale allora grazie grazie professore ringrazio tutti gli speaker per i loro interventi molto interessanti e concisi quindi siamo stati nei tempi e quindi vi ringrazio grazie 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 a tutti